la loro presenza soprattutto nel giorno dell'inaugurazione. Tu nella tua testa, secondo me è un'idea, quella di realizzare, tu già sorridi, una fiera dell'eccellenza invernale. Diciamo che questa è una cosa che molti mi richiedono, anche se comunque c'è questo pensiero, il voler realizzare una Kermess invernale, però ovviamente ci vuole molto tempo per organizzare un evento fieristico di questa portata. Diciamo che all'incirca ci vogliono otto mesi e quindi mi è impossibile realizzarla. Ritorno a dire che comunque le aziende mi richiedono questa edizione invernale. Chissà. Chissà, vediamo un po'. Siamo giovani. Sì, vedrò di sdoppiarmi, di diventare dieci. Oppure vedremo di realizzare, anziché 12 mesi, 24 mesi, così ce la fai come te.